Ora lascio la parola al professor Gambino, ordinario di diritto privato e prorettore dell'Università Europea di Roma, che ci parlerà dell'impatto che ha questa nuova tecnologia nel mondo del SILO. Grazie, grazie di questa opportunità di dialogo. Il tema che mi è stato assegnato si intitola il paradigma della blockchain negli ordinamenti di SILO. Il paradigma, che cos'è un paradigma? È un archetipo, è un modello. Normalmente negli ordinamenti civilistici, tipici di provenienza dalle decodificazioni, i modelli sono interni al sistema giuridico, si ricavano dal sistema giuridico, si ricavano dalle norme, dagli istituti che compongono il sistema giuridico. Capita però, sempre più di frequente, che l'ex mercatoria, la l'ex mercatoria, imponga dei modelli culturali, oggi soprattutto tecnologici. Non è la tecnologia che impone quei modelli, è la l'ex mercatoria che impone quei modelli. modelli, appunto, tecnologici alieni, estranei al sistema, potremmo dire all'obiettivo di una sistematica interna agli ordinamenti. E capita soprattutto che queste lex mercatorie, che diventano una sorta di lex digitalis, subiscono anche una giuridificazione positiva. E quindi entrano dalla porta all'interno del sistema, perché diventano anch'esse norme dello Stato. E la tecnica della blockchain si iscrive all'interno di questo fenomeno. Non entro nel dettaglio tecnico di cos'è la blockchain. Uscirei anche dai, non solo dai tempi della relazione, ma anche dal sapere giuridico che ci accomune. Ma mi limito a definirla in modo molto semplicistico. Un registro pubblico condiviso. Una sorta di libro contabile, che si aggiorna automaticamente attraverso procedure informatiche, dove tuttavia il deposito dei dati non è modificabile. Si aggiungono altri dati, ma ciò che è al suo interno non si può più modificare. Siamo all'interno quindi di un registro che ha qualche somiglianza con i registri che conosciamo da vicino. Qualche somiglianza. E allora il nostro compito adesso è di cercare di inquadrare il fenomeno della blockchain, all'interno delle categorie giuridiche. Con una finalità di armonizzarlo al sistema, visto che, lo vedremo a breve, è diventata norma dello Stato. Vorrei farmi comprendere da ciascuno dei presenti, perché a noi non appartiene la comprensione di rudimenti appartenenti ad altre discipline distanti e diverse. Non c'è richiesto di essere esperti di informatica. Forse lo sarà la prossima generazione dei nativi digitali, quando si affacerà al mondo del lavoro. Noi abbiamo ancora gli strumenti della nostra tradizione. Allora, semplifico. Immaginiamo che io trasmetta un file contenente un documento ad un mio cliente. Quel file, insieme al documento, circola e circola ogni qualvolta il destinatario di quel file vuole farne uso, lo vuole rimettere in circolazione. In qualche modo, qualsiasi consociato utente potrà anche imputare a se stesso la paternità di quel documento. Non gli sarà plecruz. E per ovviare a tutto ciò, invece, gli ordinamenti civilistici predispongono degli strumenti di certificazione dell'originaria paternità. Essi smuovono su due crinali che voi conoscete molto bene. Il crinale della distinzione tra originale e copia, da una parte, e il crinale dell'elemento che attribuisce la paternità dell'atto al suo autore, tradizionalmente la sottoscrizione autografa. Poi, ai fini probatori, questo gradiente progressivamente si perfeziona a livello di certezza giuridica e la presenza di un'autorità terza, le forme di pubblicità, però il sostrato di questo modello che tutti noi conosciamo si esemplifica, potremmo dire, in un brocardo. Il documento quale res signata l'archetipo di riferimento che è il sostrato del modello attualmente consueto. e nelle ius civile la presentazione del fatto infatti può essere orale oppure scritta, tercium non datur, e poi anche trascritta ai fini dell'opponibilità e talvolta anche ai fini della sua rilevanza giuridica. Torniamo al nostro documento trasmesso per posta elettronica, cioè informaticamente. Di per sé lo strumento informatico nulla aggiunge e nulla toglie a questa dinamica. Sempre documento è quello tradizionale, quel tipo di trasmissione comporterà che si può imputare quel documento a chi voglia farlo perché il documento rappresenta un fatto a prescindere dalla circolazione presso terzi, a prescindere della sua circolazione verso i terzi. Cioè il momento storico della formazione dell'imputazione al suo autore prescinde dallo strumento informatico. Si lega solo ed esclusivamente al carattere autografo della sottoscrizione che rende l'originale irripetibile giuridicamente. C'è solo un documento sottoscritto in originale. Ora sono già vent'anni che c'è una seconda accezione normativa che va sotto il nome di documento informatico che è stato espresso dal regatore che mi ha preceduto che ovviamente poco ha a che fare con la concezione tradizionale del documento quale resse signata e che appunto segue un paradigma diverso. Il documento informatico è un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti. Rappresentazione dunque non di un fatto attraverso il soggetto che la rappresenta ma attraverso un medium che rappresenta informaticamente dei fatti dei dati. Muta tutto il modello a questo punto. Non è più la rappresentazione di un fatto indissolubilmente legata all'autore di tale rappresentazione. Usciamo da questo modello. Ma è la rappresentazione informatica e quindi attraverso un procedimento informatico di fatti che potremmo dire non si incorporano scusate l'espressione tecnica nella resse signata ma che ciò non di meno sono giuridicamente dati per rappresentati perché? Perché l'ha deciso il legislatore. L'esemplare originale in questa dinamica non serve più. Non è concettualmente pensabile l'esemplare originale. Procedimenti non sono esemplari originali o copie. c'è un procedimento che si può ripetere nel tempo fino all'infinito. Non si tratta cioè di certificare la rappresentazione storica di un fatto rispetto al quale occorre un testimone un'autorità terza bensì la deduzione la deduzione di un fatto attraverso un procedimento informatico che può ripetersi nel tempo. È la funzione di hash la firma digitale il documento informatico imputabile all'unico possessore dell'algoritmo di firma la chiave privata la chiave 25 anni fa con il notaio Miccoli noi ci trovavamo qua a conventare i primi provvedimenti normativi il decreto del Presidente della Repubblica il DPCM che introducevano in Italia quella che allora si chiamava firma digitale e poi è diventata la firma elettronica con tutte le gradazioni possibili immaginabili cioè non si verificano quei fatti documentalmente ma informaticamente quindi tornando al documento trasmesso per posta elettronica ove assistito da firma elettronica la verifica della paternità non avviene con la comparazione con l'originale ovviamente che non esiste ma un procedimento informatico ci dirà se quel contenuto è univocamente attribuibile univocamente in senso legislativo non in senso naturalistico attribui libero ad un soggetto in quanto detentore della chiave di sottoscrizione privata potremmo dire che si passa dalla res signata alla res custodita l'elemento di appartenenza che dà quel rilievo alla paternità è la custodia segreta di un elemento che solo tu puoi utilizzare e si dessume che dunque sia tu poi l'autore si dessume non è detto che tu lo sia ma si dessume giuridicamente questo viene dato come un valore ormai entrato nel nostro ordinamento se qui cose note il documento dunque informatico e la sua diversità dal documento materiale tradizionale vergato a penna e sottoscritto ma la domanda che coinvolge la blockchain il documento informatico si può trascrivere non nei registri cartacei nel senso che non si trascrive il documento informatico perché il documento informatico non è un documento e quindi cosa vado a trascrivere i registri tradizionali cartacei i procedimenti sono intrascrivibili da questo punto di vista sì potrei trascrivere tutti i singoli fatti che hanno dato luogo al procedimento ma che mi interessa non è quello che voglio andare a trascrivere dunque però abbiamo detto che la blockchain invece viene ritenuto registro pubblico condiviso e allora vediamo questa ipotesi di trascrizione nella blockchain cosa rispetto alla trascrizione tradizionale diciamo nel documento tradizionale l'opponibilità a terzi richiede la conoscibilità legale attraverso forme di pubblicità caso tipico la trascrizione immobiliare la dinamica fattuale qual è? formazione dell'atto sua sottoscrizione ai fini dell'imputazione l'atto produce effetti giuridici il documento relativo all'atto poi si trascrive ai fini dell'opponibilità nel mondo delle cose semplici e questa è la dinamica documento informatico produce effetti giuridici sì lo abbiamo detto legislativamente produce effetti giuridici possiamo trascrivere l'abbiamo detto di no non possiamo trascrivere in quanto tale il procedimento perché è una procedura di verifica della sottoscrizione non posso trascrivere la procedura di verifica della sottoscrizione il contenuto è intellegibile e quindi rimane sullo sfondo sempre un documento tradizionale a monte del documento informatico non può non essere così che se deve essere trascritto deve ottenere il trasferimento dell'immobile dovrà comunque avere le caratteristiche tradizionali della resse signata poi si potrà lavorare sulla firma se è sottoscritta digitalmente o no e il notaio da questo punto di vista ha acquisito un suo ruolo non senza pochi sforzi perché nelle prime stesure di tutta la legislazione che riguarda il documento informatico inizialmente era stato estromesso poi grazie alla capacità e la finezza giuridica dei notai abbiamo abbiamo metto dalla vostra parte diciamo abbiamo convinto il legislatore della necessità di quel presidio di legalità e cosa succede allora con la blockchain qual è il rapporto abbiamo detto che la funzione di hash viene utilizzata per imputare il documento al suo autore ma novità con la blockchain viene utilizzata anche per certificare la circolazione giuridica del documento due cose distinte blockchain cioè questo registro condiviso e documento informativo ma la funzione che ammonte è la stessa ed è qui che poi si può riannodare anche l'esito della normativa che è stata promulgata da poco e non circola nulla non circola nulla nella blockchain abbinata a un documento informatico si verifica soltanto se dante causa avente causa hanno trasmesso il bene la notazione di questo tipo dunque rimane contratto tradizionale anche nella vicenda della blockchain contratto tradizionale i dati poi possono avere una sua paternità e quei dati possono avere una loro circolazione ma a monte c'è sempre un documento tradizionale c'è stato un colpo di scena che è quello della normativa promulgata in via definitiva attraverso la legge di conversione nel febbraio di quest'anno che cosa ci dice le definizioni le parole giuridiche diceva Carnelutti sono pietre purtroppo potremmo dire si definiscono blockchain cioè tecnologie basate su registri distribuiti le tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso distribuito replicabile accessibile simultaneamente architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche tali da consentire la registrazione la convalida l'aggiornamento l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti la convalida e cioè c'è un elemento che stravolge il sistema perché finché veniva detto registrazione di dati aggiornamento archiviazione nulla a question ma convalida ha un sapore giuridico convalida sa di giuridificazione di un rapporto che fino a quel momento è un fatto che non ha rilevanza per il mondo del diritto l'espressione convalida le parole sono pietre e così è scritto ma si dice ancora parlando degli smart contract che è un programma di elaboratore che opera su tecnologie basate su registri che opera su blockchain come? ma io lo smart contract lo pratico tutti i giorni e mica uso la blockchain dal 11 febbraio non è più così non esistono smart contract che non siano abbinati a blockchain ma come? ma perché? perché così è scritto il legislatore? perché nella definizione di smart contract dice che un programma che opera sulle tecnologie blockchain non può darsi più una definizione normativa poi noi socialmente possiamo chiamare quello che ci pare smart contract siamo liberi di farlo ma normativamente esiste solo un modello di smart contract quello che opera su tecnologia blockchain per definizione normativa ma com'è possibile? nella nostra dinamica nel nostro paradigma tradizionale formiamo l'atto lo autentichiamo lo trasmettiamo per la trascrizione opponibile anche ai fini di validità talvolta e qui invece formiamo l'atto e mentre lo formiamo già lo registriamo e solo se lo registriamo lo abbiamo formato altrimenti quell'atto non è perché? perché effettivamente non c'è più la nostra cronologia non esiste più la nostra cronologia esalta lo schema della nostra cronologia la nostra cronologia è legata sulla resse signata e quindi è una cronologia tutt'umana dialoghi trattative contrattazione e poi decido di comprare quella casa però quanti sforzi verifico il mutuo vado in banca scrivo il contratto lo sottoscrivo ecco il momento solenne e produce effetti giuridici un secondo prima non produceva effetti giuridici ciò è tanto vero che poi dice proprio negli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta prevista previa identificazione informatica delle parti interessate attraverso un processo davanti all'agite e qui poi l'elemento di confusione enorme perché a questo punto c'è un sistema binario per cui ci sono delle identificazioni e autenticazioni dell'agite e le altre quelle tipiche che abbiamo visto finora della firma elettronica quindi da adesso occorrerà un'armonizzazione perché tra l'altro la natura dell'agite è anche molto particolare è un ente diciamo legato al governo quindi gli stiamo dando un ruolo che dentro il nostro sistema giuridico non gli spetta non gli spetta questo è l'us civile non è amministrazione della quotidianità tipica del governo e invece qui c'è scritto è l'agite che gli dà la titolarità essere ritenuto contratto poi lo smorca non è un contratto come forma scritta forma scritta quindi è la forma scritta ma che cosa è la forma scritta? allora il documento informatico lo conosciamo il documento informatico può avere tutta la sua forza a secondo dell'attuale normativa sul testo unico dell'amministrazione digitale e sappiamo che invece esisterà un altro registro che si chiama blockchain e che per alcuni modelli negoziali non si può utilizzare l'effetto automatico dell'esecuzione di quel contratto se non si scrive nella blockchain e cioè noi in realtà già ne facciamo pensate in campo assicurativo quanti ce ne sono di smart contract che poi sono quei contratti diciamo così che si eseguono da soli nel senso si eseguono i contraenti l'hanno deciso prima poi magari c'è sempre la parte debole che se ne accorge dopo però di per sé è informata del fatto che poi a un certo punto se ti trovi 200 euro in meno sul tuo conto corrente bancario perché lì c'era una clausoletta penale che diceva che poi alla fine è questo lo smart contract che si esegue direttamente quella penale senza bisogno né di avvisare controavvisare o se si avvise perché mettono nel siso un piccolo warning ma uno manco se ne accorge solo quando gli arriva l'estratto conto ah come qui c'è 200 euro ma beh sì perché ho pagato un po' in ritardo il canone mensile questo è lo smart contract e allora tutto questo si faceva a prescindere dal blockchain non si potrà più fare e cioè entriamo in una dinamica dove invece si aggancia necessariamente a quei registri eh fate attenzione a questi passaggi perché se lo facciamo ancora lo continuiamo a fare ma non è uno smart contract normativo è un'altra cosa poi possiamo dire che primo passaggio che a noi ci interessa rispetto all'inquadriamento giuridico sta lavorando sugli effetti questa norma del contratto sta lavorando sulla forma qual è la fase è evidente che siamo nella fase dell'esecuzione del contratto e cioè il contratto si forma fuori da questi sistemi per forza poi nel momento in cui volessimo dargli anche quella capacità di poterti eseguire da solo allora noi seguiremo ovviamente tutta la funzione hash tipica del documento informatico perché poi sarà la stessa che ci consente di inserirlo dentro il sistema blockchain e lo facciamo insieme le due cose perché tradizionalmente la forma viene richiesta dalla legge talvolta in una modalità non consueta cioè non come manifestazione di un consenso informale ma a un certo punto viene chiesta la forma scritta l'atto pubblico la forma solenne qual è la logica di tutto questo ci sono ma qui basta leggersi la manualistica senza fare troppi sforzi da una parte c'è la consapevolezza dell'atto dai tempi del diritto romano che a un certo punto tanto più si aggiunge forma tanto più la parte sente il momento grave e solenne ed è consapevole che sta ponendo in essere un atto per lui gravoso che ha delle conseguenze giuridiche anche solo psicologicamente dall'altro c'è tutto il tema della certezza non c'è dubbio e quindi la possibilità può di opporlo perché l'elemento è certo e qui tutta la funzione e questa dinamica in questo nuovo paradigma è questa che ha costretto il legislatore a far sì che lo smart contract quindi una tipologia di strumento inserito in un negozio giuridico delicatissima delicatissima perché significa che una volta che c'è scritto così non c'è eccezione giuridica che tenga chi fa l'avvocato sa quanto sono forti le eccezioni perché sulle eccezioni si ribaltano i processi poi magari si perde la fine però intanto si prende tanto tempo e il tempo conta nel diritto conta tanto qui l'eccezione non c'è perché a un certo punto c'è l'esecuzione automatica va lì poi casomai dopo che tu hai pagato potrai eventualmente come con le pubbliche amministrazioni e allora qual è la logica per cui davanti a una decisione così gravosa la si porta direttamente dentro il sistema blockchain e allora delle due lune o siamo davanti a una vicenda dove proprio il fatto che lo smart contract si inserisce dentro questi registri condivisi potremmo dire ineluttabili perché poi i tecnici ci diceranno che sono molto più sicuri registri della conservatoria immobiliare molto più sicuri ce lo dicono i tecnici che significa che certamente il livello di certezza è molto alto ma è altrettanto alto il livello di consapevolezza e cioè il fatto che quell'operazione diventi ineluttabile fa sì che allora il legislatore ha detto aspetta prima di fare un smart contract pensaci bene perché te lo inseriamo addirittura dentro un sistema che poi non si torna più indietro perché quando poi si creano tutti quei nodi vagli a dimostrare che quell'esecuzione era invalida se poi dopo c'è stata tutta un'altra serie di nodi successivi che partendo da quella situazione giuridica hanno costruito altre situazioni giuridiche ma voglio sfidare un qualsiasi tribunale civile che può sollevare e poi dare l'ordine a chi a chi lo dà l'ordine a degli algoritmi in giro per il mondo diceva no guarda dentro quella catena ce ne sta una che è viziata perché là dentro l'utente contraente era inconsapevole quando ha sottoscritto la possibilità dell'esecuzione automatica del suo contratto e quindi è vero che tu gli hai levato un sacco di soldi però l'hai fatto illegittimamente a chi lo dico dove vado ineluttabile quindi ho davvero questa norma a dire state attenti quando fate gli smart contract perché non solo ci può essere un'esecuzione automatica di cose che magari voi da consumatori utenti risparmiatori non vi siete resi tanto conto ma che inserendolo in quel sistema non si torna più indietro e quindi se ci fosse questa consapevolezza dei consociati io non lo so la funzione notarile che prospettiva se ci fosse questa consapevolezza da parte dei consociati ma se invece questo sistema dovesse offrire delle devianze devastanti perché il livello di consapevolezza notario scruta la volontà va a fondo la volontà non è indifferente certo che lui è sulla paternità che lavora ma non è che verifica e quando invece tutto questo è dato per presupposto e a quel punto si avvia verso l'inelottabile la norma va cambiata questo è l'unico esito che la norma va cambiata vi ringrazio